Una vera e propria raffineria altamente attrezzata per la lavorazione e l'estrazione di notevoli quantitativi di cocaina destinate ad alimentare il mercato partenopeo è stata individuata dai militari del nucleo di polizia tributaria di Napoli in un appartamento di San Giuseppe Vesuviano. Al momento dell'irruzione all'interno del laboratorio erano presenti 5 persone impegnate nella lavorazione della droga. Fra queste figurano due esponenti di spicco del clan Gallo Limelli Vangone di Torri Annunziata già da anni leader nell'importazione di ingenti carichi di cocaina provenienti dal Sud America e nella gestione dei traffici illeciti nell'Hinderland napoletano. Tra gli arrestati, tutti in fragranza di reato, ci sono anche tre colombiani i quali avrebbero avuto il compito di far giungere in Italia la materia prima e nel contempo istruire i membri dell'organizzazione criminale campana nel procedimento chimico di estrazione della droga. I finanzieri hanno sorpreso i responsabili proprio durante le fasi di lavorazione della materia prima dalla quale erano già stati estratti oltre 7 kg di pasta di coca tutti di qualità appreggiatissima mentre erano pronti per essere trasformati altre 20 litri di cocaina liquida allo stato grezzo. Oltre alla materia stupefacente, sono state individuate e sottoposte a sequestro tutte le sostanze e le attrezzature utilizzate nel procedimento di lavorazione e di raffinazione. La droga sequestrata avrebbe avuto sul mercato un valore di oltre 3 milioni di euro e sarebbe servita per il confezionamento di oltre 100.000 dosi.